Siamo a Topper, boss dobbiamo completare un altro livello anche se credo che dopo questo ce ne sia almeno un altro, ovviamente sempre in modalità normale, vediamo, penso che però ci facciano avanzare direttamente e qui ci dobbiamo tornare, forse una volta finito il gioco credo, ah ma questi lanciano le frecce, lanciano, ci picchia, ah ma qui posso anche cascare, ok allora te ti levo, tu dove arriva le frecce, qua arriva, ah preso e via, uno in meno già, attenzione qua ragazzi è interessante la meccanica perché se non stiamo attenti ti vieni qui da me, tu cosa fai, c'hai qui, dammi dammi dammi, oppa la, attenzione, ah interessante, molto bene, tu pure vieni qui, ah posso anche, oh ma io salgo, forse era solo la mia impressione, no io stavo salendo prima, però perché non sono riuscito ad arrivarci di là, proviamo a cicoci, no niente, oppa la, attento, ecco quando colpisco un nemico mi allungo, cioè riesco ad andare più in alto, offerta lancio, questo articolo è accompagnato da un legume rampicante, bello preso, ok ora vediamo un po', uh prego che fortuna, ah funge anche da difesa, buono, molto buono direi, ok però qui la devo usare i nemici, vediamo un po', ah dunque, ora dovrebbe cacciare i palloncini questo, ah però devo aspettare che arrivi uno più in alto, ora, no troppo più, troppo in basso, ecco qua, no come no, posso farmi portare da loro, è tanto semplice era la cosa, sono io che me la complico, ah ma guarda fino a dove si arriva ragazzi, si svolge in alto questo livello, in verticale, principe lei, cosa c'ha lei, quindi principe, aiuto, no, oh no, uff, ci picchia ragazzi, andiamo con quello, no aspetta, ci voglio perdere un po' di tempo ma voglio farlo fatto bene, perfetto, ok adesso un po' più veloce tu, ah ma i palloncini si esauriscono, dai 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 che arriviamo qui, arriviamo, ok ora passiamo di qua, no, 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 levate, mamma mia, ecco qua, se non vi levate, ok qui è stangibile la cosa, mio dio, cioè alla fine quello non combina nulla, è solo così, tanto per, lo sconfiggiamo facilmente, ok qui, oh guarda quanta robetta qui, ah fatta qui, ah è tangibile, pensavo che cascasse, invece non rimane appiccato, ok qui dentro e poi usciamo, ok qui la stessa solfa di prima, ah però aspetta, se vado qui però, ah no, devo aspettare che facciano tovante il loro percorso, però ho trovato finora un solo tesoro, non vorrei che non li ho trovati, non ha trovato gli altri, non vorrei che fosse questo è il problema, ok beccato, vediamo un po' questo qual è, ok cuscino nuvola, quindi questo è il secondo, comodo 99%, il problema è il rimanente 1%, che bello perfetto, così, ok passiamo a questo ora, grande, voglio abbandonare, oh cavoli, oh perfetto, perfetto, andiamo qui, dai dai dai, ancora un pochino, bravo, che va a fare quello lì, è scomparso in mezzo alle nuvole, ah ragazzi però non ho trovato il cd, cd, e come lo trovo qua il cd però, invece, rimane il cd da trovare, mi chiedo ora come faccia, annaffiatoi abbiamo trovato, per andare di là, ok, ah no aspetta, fa crescere la pianta, eh sì, eccolo, me l'aspettavo, dragagliardo, mi rimane 1 e 2 da aprire, però io mi chiedo ora, il cd qui come si prende, il cd musicale, intanto andiamo a fare questo qui, dragagliardo, sarà difficile? Non credo, però, devo giusto capire come funziona, ok, via, ah ok, ma, ah ok, ma non è tanto difficile alla fine, devo solo un attimo capire il pattern di attacchi, ok, ah, ah, eh certo, se mi metto lì sotto mi metto, ovvio no, che lui arriva, dai no vabbè giustamente non riparto un'altra volta ah ci becchia via ma come ho fatto a venire lì se stava tutta quant'altra parte stava come ho fatto è impossibile eh vabbè sì avanti che fai? eh sì ok due tre dai stacca tutto stacca andato no vorrei capire come ha fatto ad arrivare lì sotto cioè proprio all'ultimo mi becca allora a meno che non va sempre di là questo potrebbe anche essere potrebbe essere che stava sempre lì va oppure boh proprio all'ultimo ti punta e dove ti trovi te lo becchi hai trovato la melodia tra gagliardo ma qui ma quindi era sotto o forse no evviva abbiamo un altro filo magico il filo magico emise un intenso bagliore e si levò alto verso il cielo poi si insinuò nel tessuto del regno e ricucì due parti di toppalandia che gran fame la sua pancia brontolava così Kirby si mise in cerca di cibo peccato non ci siano pomodori quassù pensò all'improvviso l'albero cominciò a traballare Kirby pensò che fosse un terremoto ma poi vide batuffolo intento a scuoterlo a toppalandia ci procuriamo il cibo così Kirby cercò di restare aggrappato tenacemente ma la tenacia non fu sufficiente guarda quanta roba gredò il principe Kirby era così furioso che si mise a inseguirlo e lo rincorse così a lungo da dimenticarsi di aver fame abbiamo sbloccato anche un nuovo livello di fila delle idee fila fammi capire ora noi andiamo di là e va bene questo è chiaro toppa ardente provo a prendere il disco che mi manca magari completando tutti quanto mi si aprono nuove strade eccolo proprio all'inizio stava ah ok perfetto ho preso tutto ragazzi e praticamente ho fatto anche la moneta d'oro bene perfetto ragazzi così proprio al top questo livello l'abbiamo completato vediamo se ora effettivamente prendendo tutto mi sblocca appunto nove aree oppure se era solo una mia supposizione perché in teoria forse potrebbero anche sbloccarle una volta finite vedete o il gioco magari ci sono aree extra che vengono sbloccate una volta completati certi passaggi infatti ma sotto anche se vedete ci sono due altre toppe da recuperare però forse non sono per non si trovano qui forse ok siamo a top ardente piramidi di sabbia è il primo livello che abbiamo ah ma qui poi ah ah collezionando più top e poi si svilupperà in alto sono sono sette livelli qui ah vedi man mano che la scopriamo poi arriva fino fino in fondo oppure dopo sopra ci spostiamo bene Kuj per questo video è tutto quindi per i prossimi episodi appunto riprendiamo da qui di Kirby tanto poi comunque sia lo state vedendo pubblico due episodi al giorno uno di Yoke Watch e un altro di Kirby come sempre ovviamente vi ricordo in descrizione che trovate il link per la pagina di Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video bye bye